Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e oggi facciamo un video su un grande edificio, su Galassia, lo vedete qua dietro, al centro dello schermo. Galassia è un edificio abbastanza interessante che è stato rivalutato negli ultimi tempi proprio per la grande quantità di edifici speciali che si vincono negli eventi, perché l'uso principale di Galassia è quello che dà la possibilità di raddoppiare il raccolto di alcuni edifici. Quindi dipende dagli edifici con cui si usa, se si usa con edifici che valgono poco o niente è praticamente inutile, però adesso che abbiamo tanti edifici degli eventi, che danno punti, danno beni, danno frammenti, danno tante cose interessanti, Galassia vale molto. Poi dà anche delle medaglie, ma le medaglie non valgono molto, ormai ne abbiamo in abbondanza, si vincono contribuendo ai grandi edifici, poi più sui banchi e più le medaglie che servono sono tante, più quelle che si prendono anche sono tante, quindi può essere utile avere qualche medaglia in più proprio nei primissimi tempi del gioco, ma poi diciamo che del fatto che le medaglie diventano inutili e quindi l'uso di Galassia che ci interessa è proprio quello della raccolta. Un'altra cosa che vedremo in questo video è un uso particolare di Galassia, che è l'uso combinato di Galassia con termine a produzione speciale. Lo vedremo su un edificio particolare, che è il vigneto autunnale dell'ultimo evento autunnale, io l'ho messo ieri, l'evento è finito l'altro ieri, però bisogna questo edificio portarlo all'app d'argento e d'oro, quindi farlo diventare un edificio premium, servono dei frammenti, servono 150 frammenti d'argento e 150 d'oro. Io ho finito il gioco con l'evento con 105 frammenti d'argento e 75 d'oro, quindi insomma mi manca un pochino per arrivare all'edificio completo e questo edificio, l'edificio base produce ogni giorno 5 frammenti di app d'argento, quindi a me ne mancano 45 per arrivare a 150, quindi con 9 giorni porterò l'edificio all'app argento, poi l'app argento a stavolta produce frammenti di app d'oro, 5 al giorno sempre, ne servono 150, io ne ho già 75 dall'evento, quindi con altri 75, quindi con altri 15 giorni arriverei all'edificio premium. Quindi in realtà in totale a me servono 24 giorni per arrivare all'edificio premium. Con galassia posso accelerare i tempi, perché se faccio una serie di raccolti di questo edificio con galassia posso raddoppiare i premi, quindi raddoppiare anche i frammenti, bisogna fare attenzione che l'edificio sia motivato e però per fare tante volte lo stesso raccolto o di seguito devo utilizzare termini a produzione speciale. Tutte queste cose le vedremo meglio nel video, le vedremo in pratica e allora andiamo subito nel gioco. Allora questa è la mia... no non è la beta, questa volta siamo su Sirgard, ecco qui abbiamo galassia. Allora la prima cosa che volevo farvi vedere è che io mentre tutti gli edifici ce l'ho qui, nella parte, almeno la maggior parte, nella parte nord della città, galassia sta qui, in fondo, in basso, in evidenza e proprio per facilitare il doppio raccolto con galassia, quindi la trovo subito, non rischio di sbagliare e soprattutto in cui tutta questa zona inferiore ho raggruppati tutti gli edifici degli eventi, vedete, la maggior parte almeno, perché poi è chiaro che ogni nuovo evento quando si prende qualche edificio nuovo bisogna trovare il posto per metterlo, comunque tendo ogni volta che ristrutturo a mettere qui sotto, vicino a galassia, tutti gli edifici speciali, vedete, qui ho la bassia di Atrona Azzurra, qui ho il resort a Geo per coppie, qui ho il nascondiglio pirata, il molino con glicine e così via, insomma, stanno un po' tutti da questa parte. Volevo prima farvi vedere però un attimo allora le caratteristiche di galassia, vedete io ce l'ho a livello 68, ogni 24 ore in ogni raccolta mi da 1873 medaglie e non me ne faccio niente, perché vedete che ne ho già 68 milioni, ma soprattutto per i primi 14 edifici che raccolgo dopo aver raccolto galassia mi da una proprietà del 65%, quindi molto alta, più della metà, che le risorse vengano raddoppiate. Questo non vale per i grandi edifici, non vale se non sbaglio per gli edifici che danno per le caserme, però vale comunque per gli edifici degli eventi sicuramente. Andiamo un attimo sul wiki fandom per vedere ecco a che livello portare galassia, io ce l'ho a livello 68, vediamo quali sono i livelli, allora i vari livelli, qui ci dice quanto ci dà, vedete a livello 1 ci dà soltanto 4 raccolte, il 17%, quindi la probabilità è minima, chiaramente bisogna farlo salire, io in generale consiglio di arrivare a livello 67, perché 67? Perché vedete è il punto in cui scattano 14 raccolte, io in realtà sto a 68 adesso, ma insomma 14 raccolte con il 64%, uno può anche portarla a un livello intermedio, insomma io invece di 67 potevo portarla a 62, però qui vedete qui addirittura non aumenta niente, aumentano soltanto le medaglie tra livello 61 e 62 e anche tra il 60, quindi fare questi livelli qui conta molto poco. In altri livelli aumenta la percentuale di probabilità, però a noi quello che interessa soprattutto è il numero di raddoppi raccolte, quindi è opportuno fermarli a un livello in cui scatta la nuova doppia raccolta, vedete per cui devo fermarsi a 67 perché ho 14 raccolte e non più 13. Poi se si vuole andare ancora avanti bisogna arrivare a livello 91, vedete perché solo a livello 91 scattano le 15 raccolte, quindi livello 67 è un 91, se si vuole andare ancora avanti non so quando è che scatta il 16, perché qui arriva al livello 126 stiamo ancora a 15 raccolte. Vedete io adesso a livello 68 ho 14 raccolte con il 65%, se arrivo al 126 ho 15 raccolte, quindi raccolte più con il 74%, qui la probabilità non è che è salita tanto, tanto vale arrivare al 91 per avere le 15 raccolte al 70%, questo 4% in più, aumentarlo di 30 livelli per un 4% in più di probabilità, insomma non è molto interessante, quindi ecco direi di portarlo tutti a livello 67 e poi se volete portarlo ancora più avanti a livello 91. Ok, chiudiamo il fandom e passiamo allora all'opera, ecco la nostra città, vediamo un po' le tecniche per raccogliere galassie. Allora la prima cosa per raccogliere galassie è avere sincronizzati tutti gli edifici che dovete raccogliere, quindi vedete io a sincronizzare la raccolta, adesso tutti questi edifici degli eventi posso raccoglierli tutti quanti, chiaramente io avendo 14 raccolti raddoppiati devo raccogliere le 14 cose che valgono di più, che mi danno premi i migliori. Io ho qui, ah eccolo qui, no dove sta, non sono aperto l'edificio del nuovo evento di cui parlavo prima, ecco l'ho messo qui, non avevo spazio, l'ho messo nello spazio che in genere uso durante gli eventi per fare le missioni, l'abbiamo messo qui, vedete questo mi dà oltre appunti bene, quindi mi dà parecchie cose, mi dà questi frammenti di edifici speciali, l'albero di mele, il trono di funghi, insomma varie cose interessanti e poi mi dà tre progetti, questi progetti interessanti perché mi dà della mia era o delle aree più avanzate, io stando a Titano mi dà sicuramente progetti di Titano e quelli anche mi servono, vediamo come sto, progetti di Titano, ecco a me manca poco, per avere un po' di fatto non li metto perché non ho i beni, però insomma a me mi manca un progetto di Centauro, quello centrale, uno di Pegaso, quello centrale laterale e quindi raccogliendo da questo edificio posso avere anche questi progetti che mi mancano, oppure i progetti successivi per fare i livelli successivi dopo il decimo, quindi ecco un altro motivo per raddoppiare la raccolta di questo edificio. Un'altra cosa, ci sono edifici che possono dare un prodotto oppure un altro, il tipico è il nascondiglio pirata, sto dicendo il nascondiglio pirata, ho un 40% che mi dia dei beni, dei punti, ma se non mi dai punti mi può dare beni che sono pure di un certo interesse, ma addirittura medagli o materiali, quindi io vorrei raccoglierlo, raddoppiarlo, sprecare un raccolto di galassia soltanto se mi dai punti, come faccio io per sapere se mi dai punti? Beh allora io faccio in questo modo, prima di raccogliere galassia, la prima cosa che faccio è di portare la barra sopra a 100 punti, quindi adesso ho 47 punti, raccolgo serra che mi dà 100 punti, ecco e adesso ho 147, che significa che se io vado a raccogliere un edificio che dà punti, per esempio la stella del monte, mi dice che non è possibile perché ho più di 100 punti. Questo mi permette di vedere quali edifici mi danno dei punti forgi, perché se io adesso clicco sopra il nascondiglio pirata, se capita nel 40% di probabilità che mi dà i punti forgi, mi dirà che non è possibile, vediamo, ecco mi dice che non è possibile, ok, quindi adesso ho la certezza che il nascondiglio pirata mi darà i punti forgi, se il nascondiglio pirata non mi dà i punti forgi, io me lo raccoglio direttamente prima di galassia, perché non mi interessava raddoppiare, preferivo lasciare la raccolta per un altro edificio. Se invece il nascondiglio pirata mi dà i punti forgi, come in questo caso, preferisco raccogliere con galassia e quindi non me l'ha raccolto, lo raccoglierò, prima spendo questi punti e poi userizzerò galassia. Lo stesso vale per altri edifici, in particolare per il Tempio dei Druidi, vedete che mi dà pure punti, ma mi dà bene i medagli e i materiali, quindi facciamo la stessa cosa, ecco questo vedete me l'ha raccolto, mi ha dato soltanto bene, quindi è raddoppiato e bene, vediamo quest'altro, ecco anche questo me l'ha raccolto. Quindi adesso so che di questi tre edifici soltanto il nascondiglio pirata mi dà dei punti e quindi posso raccogliere con galassia, anche se galassia oggi lo dedicheremo soprattutto a questo edificio, come vi ho detto. Ok, allora, ah beh adesso però prima di raccogliere devo utilizzare questi punti, no no, mi fa raccogliere gli edifici con neanche questo vigneto, perché anche questo mi dà i punti forti, quindi devo spendere questi punti, adesso così per rapidità li metto tutti su ARC che sto portando su lentamente. Ok, adesso ho i punti, posso partire con la raccolta. Prima però di partire con la raccolta volevo vedere allora la situazione di questo vigneto autunnale. Allora, intanto andiamo a vedere i frammenti. Vigneto autunnale. Ecco, io vabbè ho una base, un'app che al momento non mi servono, 105 su 150 frammenti d'argento e 75 su 150 d'oro. L'edificio attualmente abbiamo detto che mi produce ogni giorno 5 frammenti di kit di aggiornamento d'argento e quindi per arrivare a 150 me ne mancano 45 servono 9 giorni. Una volta che ho questo edificio, un'app d'argento, quindi di vigneto autunnale rustico, mi darà ogni giorno 5 frammenti del kit d'oro, vedete, si vede da qui. Quindi io di frammenti ne ho 75, questo ogni giorno me ne da 5. ne ho 75, ognuno ne da 5, mi servirebbero 15 giorni. Lui mi servono 75, quindi sì, 15 giorni e però posso raddoppiarli con quell'edificio. Vediamo allora quanti termini a produzione speciale abbiamo. Ecco, ho 9 termini a produzione speciale, con questo posso fare, quindi posso fare 9 raccolte una dopo l'altra sempre di quello stesso edificio e tutte quante utilizzare con galassia. Tanto di galassia ho 14 raccolte. Poi le altre 5 raccolte di galassia le utilizzerò per altri edifici. Un'altra cosa però bisogna fare attenzione che questo edificio, vedete, dà questi frammenti che a me interessano, ma anche la maggior parte delle altre cose, soltanto se è motivato. Se non è motivato mi dà soltanto monete e materiali, poi vabbè la felicità, l'attacco, ma quello non si raccoglie e quindi devo fare attenzione ogni volta a motivarlo. In questo momento è già motivato, lo vedo da questa stelletta che sta qui sopra, ma lo vedo anche dal fatto che qui, vedete, le stellette gialle sono luminose e sono evidenziati i premi. Quindi adesso posso subito raccogliere galassia. Eccolo qui. Se raccoglio galassia prendo solo le medaglie sul momento. Vedete, ecco, ho preso le medaglie. Scusate, mi segno l'orario perché poi l'orario mi serve per la raccolta successiva. Ok, quindi adesso io lo vedo da qui. Vedete, ho 14 raccolte da fare, le 14 di galassia. Ok, allora partiamo subito proprio con questo edificio. Vedete, in realtà questo edificio non è pronto per raccogliere perché mancano 9 ore, perché non è sincronizzato agli altri edifici, non è sincronizzato proprio perché l'ho messo ieri, quindi devo sincronizzarlo. E il primo termine speciale mi aiuta anche a sincronizzarlo. L'edificio è già motivato, quindi non c'è bisogno di usare un altro aiuto e allora usiamo un termine speciale. Termine speciale, usa, da scegliere l'edificio, eccolo qua, ne ha 9. Lo uso per il vignito lunale, usa, ok. E adesso questo vedete è raccolto, posso raccoglierlo, è motivato e non solo, ma adesso la prossima raccolta lo potrei raddoppiarlo con Galassia, perché abbiamo detto 65% di probabilità. Vediamo. No, clicchiamo sopra, ecco raddoppiato, vedete ho preso 10 frammenti, me lo segno, registro tutto, quindi ho preso 10 frammenti e sono arrivato a 115 frammenti. Devo fare attenzione perché quando arrivo a 150 frammenti devo aggiornarlo a argento, se no continuo a raccogliere i frammenti di argento che non me ne farò più niente. Ok, chiudiamo. Adesso io potrei fare un'altra raccolta, farne un altro termine speciale, però vedete che adesso non è motivato e lo vedo dal fatto che le stellette sono più chiare, tutti i premi che prendo soltanto quando è motivato sono chiari, sono semi grigiati, quindi io non li prendo, devo motivarlo, per motivarlo devo utilizzare un dato aiuto. Tanto, vedete ne ho 1212, chiaramente usare questi, non quelli di massa, perché deve motivare solo lui una serie, una dopo l'altra, quindi utilizzo il kit di auto aiuto, ci vado sopra, vedete adesso c'è questa stelletta bianca che significa che può agire il kit di auto aiuto, ci clicco sopra, è diventata rossa, significa che adesso è motivato, quindi adesso annullo. Ok, adesso è di nuovo motivato, però mancano 24 ore per raccogliere. Io faccio di nuovo un termine speciale, vedete che con Galassia ho fatto solo la raccolta di questo edificio, mi sono rimaste 13 e adesso quindi faccio il termine speciale, faccio una seconda raccolta. Ecco il termine speciale, ok, usa, annullo, adesso devo raccogliere, raccolgo, vediamo quanto mi arriva di questa volta, questa volta la Galassia non ha raddoppiato e quindi ho avuto soltanto 5 e sono arrivato a 120. Ok, e così andiamo avanti e così, allora adesso ogni volta motiviamo e poi facciamo termine speciale, ogni volta siamo arrivati a 12, ne abbiamo in abbondanza, quindi facciamo di nuovo auto aiuto, ecco è diventato giallo, annullazione, poi termine speciale, no ho scritto sbagliato, ecco il termine speciale, eccolo qui, ok, e adesso andiamo a raccogliere, vediamo questa volta, ancora 5, Galassia si sta lavorando male, siamo a 125, ok, poi di nuovo aiuto, aiuto, auto aiuto, auto aiuto, ok, adesso è motivato, speciale, termine speciale, ok, annullo, ok, verificare sempre che sia motivato da queste stellette gialle quindi raccolgo, non posso raccogliere perché sono arrivato di nuovo a 100 punti in barra, adesso mi scarico rapidamente su arc per non perdere tempo quindi raccolgo, vediamo cosa raccolgo, 10 punti, questa volta sono andato bene, sto a 135 mi mancano 10 punti, 10 frammenti, mi mancano ancora 15 frammenti, qui mi basta una volta da 5 e una volta da 10, oppure 3 volte da 5, se non mi raddoppia Galassia ok, ho ancora 10 raccolgo, ok, ho ancora 10 raccolte di Galassia, e ho ancora 5 raccolti della mia produzione speciale però devo prima motivarlo, quindi auto aiuto, eccolo che ha motivato poi speciale, eccolo qui, eccolo qui, usa, annulla e raccoglie vediamo questa volta quanto ho, e ne ho soltanto 5, quindi sto a 140, speriamo la prossima volta a riprendere 10, così arrivo a 150 non devo sprecare un altro, un altro tiro di Galassia vediamo qui la conferma, vigneto autunnale, la conferma, sì sto a 140, ma ne bastano altri, altri 10 ok, allora motiviamo ecco lo motivato, raccolta speciale termine di produzione speciale ok raccogliamo, 10, perfetto, quindi siamo arrivati a 150 ho usato 6 termine di produzione speciali e quindi adesso ho 150 ecco, ho tutti i 150 frammenti vedete avrei dovuto aspettare 9 giorni, in questo modo invece lo faccio subito questo lo utilizzo subito, quindi lo assemblo ok e poi lo utilizzo, vedete questo mi fa forza il normale vigneto autunnale vinto dall'evento e il vigneto autunnale rustico, che sarebbe quello d'argento questo mi dava, prescindendo da tutti gli altri valori di bonus mi dava 30 e 30 di attacco, sia per esercito di attacco che di difesa e qui diventa 36 e 37 ok, allora utilizziamo direttamente clicco qui sopra aggiornamento ok, e adesso 37, vedete 37 e 37 un'altra osservazione i punti, qui vedete mi da 28 punti ma i punti vengono aumentati perché io attivo il tempio dimenticato vengono aumentati del 20% non so se erano 20 e diventano 22 e diventano 28 per questo aumento poi è strano perché a volte questi aumenti te li segna qui a volte non te li segna comunque ecco, tenete presente che tutti i punti che sto prendendo vengono aumentati anche da qui quindi adesso il vigneto io lo chiamo d'argento perché è più sempre in quel vigneto con un nale rustico il nome ufficiale ho riempito di nuovo la barra quindi me la svuoto di nuovo su Arch per andare avanti e adesso questo edificio vedete non mi da più sempre se è motivato è già mai stato motivato da qualcuno vedete io non l'ho motivato e non mi da più i frammenti d'argento mi da quelli d'oro che sono quelli che mi servono dei frammenti d'oro ne ho 75 me ne servirebbero altri 75 in realtà io ho ancora tre raccolte tre termina speciali quindi anche se facessi 10 su tutte e tre arriverei a 105 dovrei aspettare ancora 9 giorni forse qualcosa di più se non raddoppio sempre con Galassia comunque ho ancora 8 possibilità di raddoppio con Galassia e allora abbiamo detto che ci ha motivato e quindi prendiamo il termina speciale ho fatto una termina speciale finisci speciale? mettiamo solo speciale ho termina non so perché ah è termina produzione speciale dove ho messo termina estetere ok allora ne ho soltanto tre termina produzione speciale ah però vedete non è motivato ma credo che potrei motivarlo anche dopo ma mi sembra motivato però perché non è motivato ah non è che non era motivato ok ho capito qui non mi fa più vedere la stelletta della motivazione ma mi fa vedere quella che è dell'azione di termina speciale invece lo vedo da qui invece lo vedo da qui che è motivato vedete che mi dà anche i premi, i frammenti quindi faccio termina speciale ok ok vedete è motivato adesso ci clicco sopra vediamo se mi dà eh no me ne ha dati solo 5 purtroppo e quindi siamo a 80 ok poi di nuovo andiamo a autoaiuto autoaiuto eccolo qua poi termina speciale mettiamo speciale che facciamo prima ne sono rimasti solo 2 ok usa nulla e adesso vedete di nuovo ho 7 raccolte con galassia una la facciamo subito qui 10 ecco questa volta mi sono avuto 10 frammenti d'oro e quindi sto a 90 ok mi è rimasto se non sbaglio un solo raccoglio speciale un solo termina speciale quindi motiviamo di nuovo aiuto eccolo qui eccolo qui torniamo ai termina speciali ecco è l'ultimo non lo sacrifichiamo vedete io ho dei frammenti perché non mi ricordo a quale edificio questi mi produci sono interessanti questi e allora utilizzo termina produzione speciale eccolo qui andiamo a raccogliere eh 10 perfetto quindi sono arrivato a da 75 dovrei essere arrivato a 100 chiusi andiamo a vedere le termina speciali non ne ho più eh devo fermarmi qui vigneto ecco ne ho 100 su 150 quindi adesso in 10 giorni posso concludere 10 giorni perché questo me ne produce 5 al giorno se in questi giorni chiaramente continuerò a raccogliere con galassia quindi potrebbe orientare anche 5 giorni se tutti i giorni faccio riesco a raddoppiare il raccolto del vigneto insomma diciamo comunque mi servivano adesso abbiamo detto massimo 9 giorni me ne servivano 24 quindi ho sicuramente rischiato 15 giorni con questo con questo lavoro andiamo a mettere sempre questi beni questi punti su arc ok e adesso che cosa rimane da fare beh rimangono a fare varie cose intanto andiamo a vedere le situazioni i progetti io ho preso ho preso parecchi progetti di titano con tutte queste raccolte che ho fatto se vi ricordate me ne mancava uno di pegaso e uno di centavo ecco vedete adesso ho tutti i progetti quindi oltre a questi che mi servivano per chiudere sicuramente me ne hanno dati altri che mi servono per fare livelli successivi e adesso qui ecco ne ho almeno fino a livello 13 cioè 12 perché il primo lo devo utilizzare per mettere l'edificio comunque qui ne ho per 4 livelli e qui ne ho per 2 livelli insomma ho preso comunque parecchi progetti che mi servivano ho preso tutti questi app direi che potrei essere soddisfatto rimane da finire le altre 5 raccolte di galassia normalmente ne faccio di più perché adesso le ho usate tutte per questo edificio però utilizziamole per gli edifici migliori 5 raccolte allora una la utilizzo subito per il resort Geoverco vediamo se raddoppiamo non ho raddoppiato poi ho preso i progetti invece che che i punti comunque è sempre un buon edificio poi abbiamo l'abbazia di Atron Azzurra anche questa è interessante sono 26 punti 50 beni quindi raddoppiamo questo per 2 quindi questo l'ho raddoppiato poi possiamo andare sul sul palazzo Sunhaven ok anche questo l'ho raddoppiato poi non so se vogliamo prendere questo famoso nascondiglio pirata che ci dava i 48 punti eravamo sicuri ormai che ci dava i punti infatti 48 punti vedete per 2 in realtà i punti sarebbero 40 diventano 48 con con il tempio dimenticato che ci dà il 20% e poi raddoppiati ho preso 96 punti insomma sicuramente molto buono ci rimane una raccolta sola beh qui ci sarebbe da perdere un po' di tempo per studiare qual è la cosa migliore io forse lo uso per questo che mi dà lo schiacciami dai frammenti dello schiaccianoce potrei perdere un po' di tempo insomma le cose interessanti potrebbero essere tante per esempio qui ho questo mi dà oggi la leggendaria mi dà beni mi dà punti e così le varie altre cose questo qui mi dà il bottino del bucaniere ma insomma io provo a prendere questo qui il KT Bocanti vediamo se me lo raddoppia non me l'ha neanche raddoppiato quindi dove andavo andavo ecco a questo punto sono finiti i finiti le raccolte di Galassia e un'altra cosa diciamo che Galassia si può fare anche il doppio raccolto mano a mano che si appa però è un po' faticoso perché bisogna aspettare la sincronia degli altri edifici volendo si può utilizzare i raccogli tutti speciali e fare quello che abbiamo fatto per quell'edificio per tutti gli edifici oppure io in genere faccio un livello al giorno e faccio in modo però di aspettare per raccogliere per fare il doppio raccolto il momento in cui sono tutti sincronizzati gli edifici in modo che faccio invece di raccogliermi 14 ne raccolgo 28 chiaramente 28 edifici degli eventi sono tanti e allora in genere riesco a raccogliere anche edifici un po' più vecchi come le montagne dell'aquila o dell'orso il come si chiama questo qui il casale celtic insomma bisogna vedere ognuno in base agli edifici che ha finiamo qui questo questo video spero sia stato utile soprattutto per chiarire le modalità di galassia che i giocatori iniziali che non ce l'hanno non è molto molto chiaro quindi sia l'utilità sia il modo di raccolta la modalità di raccolta il livello a cui portarlo ricordate le v67 e un 91 il modo da avere un raccolto in più un raccolto in più e poi ecco è stata interessante penso anche questa modalità di raccolta utilizzando galassia insieme a termina speciale io avrei potuto poter usare anche senza che se non avessi galassia una serie di termina speciali per fare più raccolte però in questo modo molte le ho raddoppiate però se vediamo quante ne ho ne ho raddoppiate sui numeri sono puntati qui su 9 termina speciale allora una due tre quattro eh su 9 5 ne ho ne ho raddoppiati quindi in realtà invece che 9 raccolte ne ho fatti 14 diciamo su 9 5 stiamo su 65% che mi spetta in base al mio galassia vi saluto ciao a tutti buon game alla prossima ciao a tutti